Maria comunque non è vero che non lo sapeva, lei era al corrente perché io quando ho parlato con Armando al telefono però diciamole le cose ragazzi, noi ne nascondiamo Io l'ho lanciata, era il venerdì sera se non ricordo male, il giorno successivo, dopo un paio di giorni io ho saputo che voi vi sentivate, non vi siete sentiti subito? No subito ci siamo sentiti, tanto che io gli ho detto che stavo preparando la sfilata e mi ha detto che tu lo sapevi, vabbè non fa niente Assolutamente, tanto è vero che lui mi ha fatto No, no, assolutamente Che c'era eh? Secondo me gli uomini sono veramente di uno scontato unico Bellissima Veronica, ma non è un contro di te, però per me è così, io posso esprimere la mia opinione? Per me è così Samuel? Dimmi la motivazione di perché scontati, dimmi cosa c'è da togliere a Veronica È bellissima, è bellissima anche Roberta, è bellissima, dobbiamo fare un nome Vabbè io ero convinta appena uscita che voi avreste votato a prescindere dall'abito di Roberta Ma non è contro di te, è bellissima, il vestito è bellissimo Assolutamente, ma se uno fa una sfida si mette in gioco sulle sue doti tra virgolette migliori Le sfide in questo programma è più senute e più vinci, quindi questo è scontato, non è che...